Qua 120 metri questo punto, 60 e 60, 30 e 30 e 60. Qua 120 metri ha avuto 60, 30 metri, monti di 30 metri, avuto 60 metri, 120 metri. Perché all'avanzamento, quando mancava l'aria, mancava l'ossigino e svenivano. Se non si portavano fuori a fare i movimenti, la respirazione artificiale, giravano le scarpe in sole. Perché la silicose ce ne ha di due qualità. C'è la silicose che è secca, il polmone diventa secco, duro come una pietra e non si respira. Dove lavorano con una certa qualità di pietra, viene la silicose che viene agli sbocchi di sangue. Quella lì è la silicose che fanno gli sbocchi di sangue. Qua 120 metri ha avuto 60 metri. Qua 120 metri ha avuto 60 metri. Qua 120 metri ha avuto 60 metri. Qua 120 metri ha avuto 60 metri ad avuto 60 metri. Ho detto che se lei si spessi di fumare va via il polvo sfumato, a qui c'è. E anche in Italia. Non è uno che c'è. Sono l'unico, non è? Tutti quelli che sono qui c'è. Io sono più vecchio del mio tolto. Di sotto ti amavano tutti bagnati, e allora non si vedavano solo che non si fosse ingegnere, però se arrivavano erano di quelle smaniate, e la prima volta lì si stava zitto perché non avevamo posto, e poi com'è? Mi avrei detto una volta, fessi da fessi, io scrivo tutto, o se capitava qualcosa, non davo mica io due giorni davanti a meiazziio.